we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo veramente delle novità incredibili per quello che riguarda il futuro di fortnite immediato e mi rivolgo proprio a prima della patch 14.10 vedremo ragazzi tutto quello che sta per succedere con i rift beacon quello che hanno appena creato ma parleremo anche di un nuovo restyling dello shop e una notizia incredibile da una fonte anonima per le location che stanno per arrivare prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news ma prima di cominciare voglio ricordarvi che questa sera alle 19 c'è il twitch rivals e io ragazzi sarò esclusivamente in live tutto il giorno ovviamente su twitch dalle 8 alle 16 e 30 ma ricomincerò intorno alle 18 e 15 direttamente dalla sede di pc hunter ad esio provincia di montsebrianza insieme a piazza io e lui giocheremo insieme ma la squadra è composta anche da croatomist e los amigos mi raccomando passate su twitch a vedere il rivals questo torneo ufficiale di fall guys che merita davvero tantissimo andiamo avanti a parlare del primo argomento di oggi perché ieri sono uscite le sfide della settimana numero 2 sfide veramente interessanti perché hanno regalato una schermata di caricamento ragazzi davvero bellissimo l'adamantium slash la si otteneva appunto con la sfida segreta che non era ancora stata decriptata i giorni precedenti e tra l'altro completando le sfide otterremo anche la nuova variante di shulk di jennifer walters quindi davvero tanta tanta roba mi raccomando completatele non c'era bisogno di fare nessun video particolare tanta roba perché sono 225 mila punti esperienza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi e nuovi aggiornamenti per quanto riguarda galactus voglio sempre tenervi aggiornati e quindi vi ricordo che questa è l'immagine della stella più brillante del cielo quella proprio di galactus del 27 agosto ma se andiamo a vedere un'immagine di ieri se me la facesse vedere eccola qua come vedete ragazzi la distanza è la stessa ma la stella si è ingrandita molto molto di più questo vuol dire che forse nella patch 14.10 vedremo l'arrivo di galactus o comunque ci sarà una grande modifica staremo insomma a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ecco qua uno dei leak più importanti delle ultime ore degli ultimi giorni la fonte come vedete rimane anonima non è stata detta pubblicamente ed è una persona che dice list of oggi poi su returning in decision list delle location originali quindi oggi quelle vecchie che torneranno loot lake che sarà l'acqua vicino a lazy tilted tower ragazzi pinnacoli pendenti che dovrebbe prendere il posto di lago languido anarchy acres ne stavamo già parlando acri anarchici che prenderà il posto di fattoria frenetica e grisi groove grisi groove se non ricordo male era boschetto bisunto non si chiamava boschetto bisunto porcaccia miseria non mi ricordo il nome era se non ricordo male dove c'era il ristorante del durburger ho veramente ho veramente un lapsus freudiano scrivetemi qua sotto in italiano grisi groove perché non me lo ricordo che andrà a sostituire holly heads quindi ragazzi incrociamo le dita perché probabilmente in questa season rivedremo delle cose davvero molto molto belle tra l'altro vi ricordo anche che c'erano già state spoilerizzate alcune cose con questo post che avete visto anche ieri i quattro junk drift che stanno per arrivare e che forse arriveranno nella patch 14.10 che dovrebbero portare appunto queste nuove location quindi ragazzi sono già due gli elementi che si accomunano e io sono molto fiducioso anche perché stanno succedendo veramente delle cose incredibili in mappa e speriamo davvero di rivedere qualcosa di vecchio del primo capitolo di fortnite andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è un'altra delle cose incredibili questa immagine che state vedendo non è un fotomontaggio non è fatta con photoshop ma è semplicemente l'unirsi della nuova fase dei rift beacon voglio farvi vedere un attimo uno spezzone come vedete ragazzi è veramente incredibile quanto stanno andando avanti i vari rift beacon e quello che stanno creando questo cerchio enorme che come ovviamente avete capito sta avvolgendo fattoria frenetica potrebbe essere qualsiasi cosa insomma oltre al cerchio tra l'altro c'è anche questa barra verde si pensa ovviamente che fattoria frenetica sia la prima delle location che verrà sostituita in questa season e che appunto riporterà un vecchio acri anarchici non abbiamo ovviamente delle notizie ufficiali ma sappiamo che tutto questo in realtà è generato da a tony stark intanto abbiamo delle altre bellissime immagini da alcune angolazioni sappiamo ragazzi che tony iron man sta preparando qualcosa molti dicono addirittura che stia cercando di far tornare il visitatore in questo nuovo capitolo di fortnite e tra l'altro abbiamo già delle immagini su quello che sarà la nuova autorità e sì perché vi ricordo che l'autorità diventerà la location ufficiale di tony stark questo ragazzi è uno dei nuovi forzieri che sarà possibile aprire direttamente nell'autorità lo rivediamo innanzitutto con una inquadratura veramente molto più vicina come vedete stark industries ma non sarà l'unico forziere qua abbiamo un altro bellissimo forziere e vi ricordo anche che tutta l'autorità cambierà e diventerà appunto location di iron man e verrà introdotta anche un nuovo veicolo la macchina più veloce del gioco ragazzi questa lamborghini a differenza di quella che noi già conosciamo invece che andare come velocità massima a 90 andrà a 120 quindi una bella velocità ne ce ne sarà solamente una e sarà proprio la macchina più veloce del gioco ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché se andiamo a vedere nell'ologramma del della pre lobby dove ci sono insomma alle sfide viene mostrato dalle sfide di ieri un punto molto interessante una nuova location voglio farvi vedere un pochettino meglio l'immagine e come vedete se guardate tra catty corner e misty meadows vedete quei tre punti di domanda lo capite meglio in questo modo tutto quello che ci chiediamo è che cos'è questo nuovo punto di interesse è per caso uno di quelli che già avevamo visto nella mappa e che manca tre li abbiamo visti ragazzi il security track il primo e la dog house secondo e il panther monument il terzo manca il collector's museum che doveva arrivare ma non è arrivato il problema è che non abbiamo ben chiaro a questo punto la posizione del collector's museum e se quella fosse corretta allora le tre punti di domanda starebbero a significare un altro nuovo punto di riferimento anche perché si dice che il collector's museum dovrebbe arrivare solo dopo l'uscita dei nuovi rift di cui vi avevo parlato quindi ragazzi dobbiamo un attimino cercare di capirlo e appena sapremo qualcosa di più e siamo arrivati ragazzi alla fine questi sono le notizie di ieri voglio solamente ricordarvi una cosa purtroppo non so perché ho un po di problemi con gli slide ma ci sarà un nuovo restyling dello shop nella patch 14 punto 10 e sarà veramente una cosa molto interessante perché lo shop come ce lo ricordiamo adesso non sarà più così ce lo dobbiamo dimenticare verrà suddiviso in sezioni e le sezioni sono ad esempio dedicate in base agli oggetti che sono presenti una sezione per le skin una sezione per i deltaplani una per i picconi una per le coperture una per le be per i background musicali ma ce ne sono anche alcune molto interessanti tra cui una che dice customize your hero quindi ragazzi si potrebbe magari pensare che stiano per arrivare o stia per arrivare un nuovo eroe una nuova skin personalizzabile come abbiamo già fatto nei precedenti capitoli nelle precedenti season di questo capitolo 2 ragazzi come maya insomma per per dire quindi staremo a vedere ovviamente tutti gli aggiornamenti che oramai arriveranno con la patch 14.10 di settimana prossima io per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao